Ciao, benvenuti sul mio canale YouTube e in questo piccolo video vediamo come gestire il crunch addominale. Metto a terra, divido l'esercizio in due fasi. Prima fase, contraggo l'addome, sento che induriscono la muscolatura e bloccando il collo, quindi non do la testata, il collo rimane fermo, contraggo l'addome e adesso stacco le spalle. Scendo, contraggo l'addome, salgo. Questo è il crunch basico, perché faccio questo esercizio? Per allenare il retto dell'addome, che è il muscolo che parte dallo sterno e arriva fino al pupe. Attenzione perché a parte questo muscolo, tutti gli altri addominali partono e arrivano alla colonna. Quindi problemi di addominali, uguali problemi di mal di schiena. Mal di schiena probabilmente dovuto anche problemati addominali. Un altro esercizio ottimo per l'addome è il plank, che inizia con l'attivazione dell'addome in questo modo qua. Io metto in questa posizione. Cosa faccio? Contraggo l'addome spingendo il bacino verso le spalle e le spalle verso il fascino. Da qui mantengo la posizione. Una variante con le braccia distese, ok? Ma il basico è questo qua. Questi sono due esercizi semplici, ma estremamente importanti per il controllo dell'addome e per il controllo del core, del tronco. Quindi è fondamentale che voi li usate, a prescindere dalla disciplina sportiva che voi alleniate. D'accordo? Vi aspetto nei prossimi video e sono sempre qua sul mio canale YouTube. A presto!